Ok, perfetto, direi di cominciare a questo punto. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Io sono Gianluca Pucci, Manager Sales Engineer di Watchcard e oggi ci occuperemo sostanzialmente di presentare la nostra soluzione integrata del Watchcard Cloud rispetto alla funzionalità relativa al Firebox Cloud. Cloud Center Management, quindi la possibilità di gestire, oltre che monitorare, di andare a gestire anche i firewall via piattaforma Watchcard Cloud. Un paio di note organizzative prima di cominciare. Il webinar è registrato, quindi ci sarà la possibilità poi di vederlo in differita tempo tecnico di uploadarlo sul nostro canale YouTube Watchcard Italia, quindi avrete la possibilità di rivederlo quando e come vorrete, usufruendo quindi del nostro repository consueto di webinar. Seconda battuta, ci riserviamo la fine del webinar per eventualmente porre delle domande. Ci riserveremo un certo minutaggio, vediamo poi di gestire ovviamente il tutto, al fine di far fruire correttamente il webinar, quindi dare tutte le informazioni necessarie. Non sarà sostanzialmente una sorta di corso su come si va a configurare il firewall utilizzando il Cloud Management, ma il mio scopo è quello di fissare alcuni concetti importanti e ovviamente perché no andare a toccare aspetti pratici proprio relativamente della nuova funzionalità. Allora, innanzitutto partiamo con le condizioni preliminari. Cosa è necessario affinché un firewall possa essere inserito all'interno del contesto del Watchcard Cloud? Dal punto di vista del licensing, quindi parliamo dal punto di vista, se vogliamo, commerciale, c'è necessità di avere una basic security e una total security. In questo momento è in fase di valutazione barra roadmap il fatto di poter inserire anche una standard support in questa caratteristica. Però al momento sostanzialmente il Watchcard Cloud accredita basic security e total security. Dal punto di vista dei requirement tecnici, il sistema prevede sostanzialmente che la condizione in termini di sistema operativo per accogliere un dispositivo sia che il dispositivo porti la versione 12.5.4. Dal punto di vista del management, una volta che questa versione basica è stata riconosciuta potrebbe succedere, come vedete qui riportato, che per alcuni modelli sia necessario affinché il cloud management possa implementare, deployare la configurazione a portata, sia necessario un upgrade che avverrà in maniera automatica sulle versioni successive, direi a questo punto pressoché ultime. Quindi parliamo della 12.5.7, parliamo della 12.6, parliamo della 12.7. Comunque poi le note tecniche vanno a chiarire questo punto. Di partenza la condizione necessaria è che vi sia la 12.4 allineata. Altre caratteristiche fondamentali, e qui si apre un piccolo dettaglio, sostanzialmente un piccolo dettaglio, una piccola nota che poi in realtà diventa importante, è che per essere associato al management via cloud il dispositivo deve partire dalla condizione di factory default e non c'è la possibilità di migrare alcuna configurazione esistente come firewall gestito localmente. Ecco, qui apro un inciso. Come interpretiamo il management via WatchCard Cloud? Mi sento fortemente di dire che non è in assoluto una nuova modalità di management del Firebox. Semplicemente perché? Perché io definisco management di un firewall la possibilità di far fare al firewall tutto quello che il sistema operativo rende disponibile. E allora vi chiederete Gianluca, che cos'è allora questo Firebox Cloud Center Management? È una funzionalità che tocca la gestione degli apparati, ma in un certo particolare contesto, dove la semplificazione, il deployment schedulato e dare possibilità di avere un single pane of glass è il punto focale dell'obiettivo del nostro cliente finale. Quindi questo messaggio porta a dire che i metodi di management delle soluzioni che avete ora vigenti, deployate dai vostri clienti, quindi tutto quello che è operativo, funzionante e configurato, assolutamente deve restare tale. Nessuno vi sta ovviamente dicendo che bisogna fare una migrazione su questa piattaforma, perché questa piattaforma non è attualmente uno strumento considerato tool di management, ok? È un'opportunità barra funzionalità che prevede per nuove clientele che hanno determinate esigenze, ribadisco nuove clientele che hanno determinate esigenze, di avere un single pane of glass monitorato, gestito e facilitato, dopo vedremo perché, al fine di semplificare, quindi di rendere delle operazioni ricorsive, quotidiane, continuative, semplificate e multiple verso diversi dispositivi, ok? Non lo, ripeto, non lo considero un full management platform, proprio perché, come vedremo, non è possibile fare tutto quello che il sistema operativo consente di fare. Ok? E non lo sarà neanche in futuro. Ci saranno delle integrazioni attualmente, ma non pensate di arrivare ad avere tutte le funzionalità, proprio perché non è visto in quest'ottica, ok? Quindi, ripeto, è un qualcosa da pensare, valutare, riflettere, analizzare, per i nuovi clienti che hanno un certo tipo di esigenza, ok? Trovate dettagliato dal punto di vista delle funzionalità, questa è una nota tecnica, nella nostra knowledge base, che è poi documentata e dettagliata anche nell'help online, che cosa verrà implementato in futuro, quindi non scendo nelle caratteristiche punto a punto di quello che attualmente non si può fare, ma verrà implementato, e trovate anche quello che non verrà supportato, ok? Quindi, tutto quello che viene dettagliato qui non farà parte mai della piattaforma di cloud central management, semplicemente perché non è mirato a consolidare lo scopo della funzionalità del cloud central management, ok? Fate queste dovute precisazioni, andiamo a questo punto a enfatizzare ancora di più qual è la relazione fra i nostri dispositivi Firebox e il mondo cloud, quindi nell'ottica sostanzialmente di andare a voler aggiungere un dispositivo, quindi ancora prima di arrivare al dettaglio, io porto un add device e immaginiamo di dover aggiungere un dispositivo, ok? Queste sono le due relazioni che coinvolgono il cloud verso il dispositivo, quindi il mio dispositivo può vedere il cloud come repository di log e reportistica, ma con management on premise, quindi con le classiche fruizioni del management che ben conosciamo, quindi la web user interface e il nostro caro e vecchio WSM, oppure totalmente in mano al cloud, quindi sia dal punto di vista di log e reportistica, ma anche dal punto di vista della gestione. Ecco, questa scelta inibisce totalmente la gestione locale, quindi è una scelta preclusiva. Ma perché? Non vedetela come una limitazione, vedetela sempre attinente a un'analisi fatta prima, sulla base di quello che poi vi andrò a dire, che porta ovviamente alla finalizzazione del mio scopo. Quindi il fatto di dire, ah no, ma io poi lo vorrevo gestire anche localmente, porta al fatto che magari questa esigenza non è emersa durante l'analisi, ok? Quindi non è una limitazione semplicemente perché il cloud, la piattaforma di management via cloud, non è a tutti gli effetti una full management platform, ma è una funzionalità che ci permette di rispondere in maniera positiva a determinate esigenze del cliente, ok? Che tocchi anche il management è semplicemente una conseguenza che non mi deve preoccupare al fine di dover ritoccare funzionalità non incluse nel management localmente, proprio perché la prospettiva non era assolutamente questa in maniera iniziale, ok? Quindi io il rapporto, ripetiamo, il rapporto fra il cloud e il firebox associato può vedere queste due vesti, quindi che il firewall sia gestito totalmente, quindi sia un cloud management device, ok? E questo inibisce il management locale, o che sia una finalizzazione di cloud reporting, quindi che vada a coincidere con la funzionalità Watch Car Cloud Visibility, ma lasci il management dell'apparato gestito con le metodologie classiche e solite. Nel nostro esempio andremo a vedere le due possibilità, quindi ho nel mio account specifico di test, ho due device, quindi il mio T55, che come vedete a livello di configurazione non ha la configurazione completa, ma ha semplicemente alcune funzionalità esclusive di maintenance, che ben conoscete se avete assistito ai miei vecchi webinar, quindi il reboot del device, l'aggiornamento, il backup, la gestione del backup image. Non c'è in questo caso la possibilità di avere il management completo delle policy. E ovviamente la parte di log e reportistica nella sezione monitoring portano ad avere su questo dispositivo, a seconda della retention ottenuta, l'inclusione di quello che è storicamente il nostro dimension, quindi anche se la nomenclatura è diversa, viene denominato come Watch Car Cloud Visibility, è quello di quindi di storare i log e la reportistica sulla piattaforma cloud. L'altro dispositivo, che invece sarà il fulcro della nostra presentazione, a è un full management device. Quindi se io vado nella parte di device configuration, trovo comparire, trovo a, diciamo così, a poter essere utilizzata la parte di device configuration. Quindi da qui inizia, se vogliamo, il nostro viaggio per vedere la nuova filosofia di gestione, che ripeto, non è completa, quindi ho usato gestione, configurazione, ma ripeto, io la includerei come funzionalità. Non è attualmente una piattaforma completa di gestione dei dispositivi, proprio perché voglio enfatizzare il fatto che non posso ancora gestire tutto e che portare alla decisione di utilizzare il Watch Car Cloud come management deve avere, deve mandatoriamente avere fatto un'analisi specifica conoscendo pregi e difetti che io ora avrò il piacere di illustrare. Ok? Non c'è, come detto in precedenza, non c'è possibilità di importazione, esportazione, scambio di template, di configurazione, di file di configurazione fra le piattaforme, fra questa piattaforma e la piattaforma classica, WSM, Web UI, che dir si voglia. Quindi rimangono due filosofie diverse di scrittura sul dispositivo e di struttura del file di configurazione. Quindi una migrazione non è fattibile da WSM verso cloud, quindi non posso pensare di importare un file di configurazione precedentemente costruito sul WSM verso il cloud. Invece ci sarà un riflesso fra la configurazione del dispositivo apportata via cloud e un accesso offline del WSM, perché io posso sganciare il firewall dal mio account allorché lo sgancerò dal management via cloud, questo diverrà gestibile localmente. Quindi una situazione di offline pone rimedio eventualmente alla non possibilità di configurare più il dispositivo, ok? Quindi c'è una asimmetria dal punto di vista delle interpretazioni della configurazione, ok? Ma finché rimane agganciato online, l'esclusività del management sull'apparato è assolutamente a discapito del Watch Car Cloud. Allora, andiamo a vedere, andiamo a toccare i punti sostanzialmente che esplicitano la diversità della struttura di configurazione vedendone appunto le diversificazioni rispetto a quanto siamo abituati a vedere. La prima diversificazione è la concezione del mio dispositivo, quindi vedete io sono collocato su questo dispositivo che uso come demo, ed è l'interpretazione dei motori UTM. I motori UTM vengono profilati, racchiusi su un unico profilo che ne racchiude un tot in alcuni casi. Quindi non ho più la visione generale del singolo profilo di application control e del singolo profilo di URL filtering, ma benché rimangano profilati, queste due entità sono annesse, in questo caso, nel menu, nel servizio, chiamiamolo così, di sicurezza, chiamato content filtering, che li contemplerà entrambi, ok? Così come tutta la parte di file scanning che contempla 1-3 motori di file scanning che conosciamo benissimo, quindi il gate antivirus statico, l'intelligent AV e la PT blocker, licensing permessa, quindi in questo caso parliamo di una total security, vengono unificati in un unico profilo che prevede ovviamente di attivarli tutti e tre, piuttosto che quelli che, diciamo così, ritengo opportuni. All'interno poi della policy, come vedremo, io troverò l'oggetto content scanning, non troverò più la singola funzionalità, ma questo è uno step successivo. Ho la parte di network blocking che contempla anche lui alcuni servizi che vengono raggruppati, raggruppati, servizi di sicurezza vengono raggruppati, quindi tutti questi item saranno oggetto poi della policy riconosciuti non tanto con i nomi loro fine a se stessi, ma con il nome che racchiude, che determina il profilo che ho configurato, ok? Ovviamente di questi l'unico profilabile è, al di là della geolocation che viene trattato fine a se stesso, è il content filtering. Il content filtering, come vedete, mi permette di creare dei profili dove tratto web blocker e application control. Quindi l'aggiunta di un profilo mi permette appunto di andare a sostanzialmente creare le due action relativamente al web blocker e all'application control. Quindi rimane l'esclusività, rimane la possibilità di creare profili diversificati per matchare le diverse policy magari su base autenticazione. Quindi questa è una condizione che passando dalla vecchia alla nuova maniera non viene sostanzialmente modificata, ma magari in maniera molto più comoda viene gestita unificando, diciamo, dei contenuti che sia a livello web che a livello applicativo convergono verso la stessa esigenza, ok? Quindi prima grossa novità che i security service vengono identificati in profili unici che confluiscono i nomi specifici che racchiudono i motori relativi. Quindi il content scanning ovvero lo scanning dei payload che vado a far transitare attraverso il mio firewall unifica gateway antivirus intelligent AV apt blocker. Network blocking unifica botnet detection intrusion prevention e la parte di blocked sites geolocation lasciato fine a se stesso e content filtering relativamente all'unificazione profilata di web blocker piuttosto che application control. L'exception e la TLS encryption ovviamente qui determinano questa parte qui si sposa ovviamente con la necessità che vedremo dopo di attivare l'inspection delle sessioni HTTPS andiamo a vedere la parte più centrale quindi la parte relativa al firewall con i tre sottomenu relativi alle firewall policy alla creazione degli alias e alla creazione degli SNAT da inserire come oggetti all'interno delle policy ma una probabilmente la grossa novità principale è un pochettino se vogliamo la rivoluzione nel concetto di firewall policy che ora vi andrò a illustrare non ho più rispetto ai metodi di management precedenti non ho più una lista di policy conseguenziali univoche ma ho tre divisioni tre sostanziali divisioni le first run policy le core policy e le last run policy cominciamo dalle core policy le core policy sono sostanzialmente le policy normali del firewall quindi quelle sostanzialmente che vanno a gestire monitorare delineare mitigare controllare il traffico e che sono diciamo quelle che si utilizzano per la gran parte sono le policy in questo caso dove io potrò montare i servizi UTM ok quindi diciamo che la la grossa totalità della parte delle policy che voi andrete a configurare sarà una core policy poi vedremo quando simuleremo un add a che cosa porta quindi il significato della core policy è sostanzialmente la grossa parte delle policy che andrete a configurare di trattazione del traffico con annesso controllo UTM le first run policy le consideriamo all'atto della loro creazione come eccezione e come lettura prioritaria rispetto alle core policy ok quindi se voglio sempre consentire diciamo così la navigazione senza nessun controllo a un singolo utente se voglio sempre consentire un certo tipo di traffico verso una certo tipo di fully qualified name senza rotture di scatole tutte le eccezioni prioritarie senza servizi UTM quindi senza servizi di controllo rappresentano le first run policy ok quindi nella creazione di una first run policy non troverete nessun tipo di controllo UTM perché per concezione rappresenta l'eccezione in positivo e in negativo che deve sempre prevalere rispetto alla gestione generale del traffico così come le last run policy anch'esse senza controllo UTM saranno le policy che io dovrò avere come alternativa finale a tutto quello che ho definito sopra rimane sempre questo per chi conosce bene la nostra filosofia rimane sempre la deny all quindi non c'è alcuna necessità di andare a creare una last run policy come deny all totale perché quella esiste ed esiste sempre quindi sostanzialmente tutto quello che non viene identificato come first run come core policy come last run ripeto first run e last run non contemplano servizi UTM ma contemplano delle eccezioni prioritarie o secondarie rispetto alle core policy di trattazione del traffico ma ci sarà sempre una policy di chiusura invisibile che è la deny all alla fine di andare a matchare tutto il traffico che non ha un matching nelle regole definite sopra ok quindi fatta questa divisione quindi troverò tre liste nella mia nomenclatura vado ad aggiungere una regola e come vedete mi propone che cos'è una core policy o una exception policy se è una exception policy che cos'è una first run o una last run se è una core policy che cosa sarà una politica di outbound dalle internal network verso l'external network una politica di inbound dall'external network verso l'internal network o una politica custom fra le internal network del firewall quindi fra una passatevi il termine fra una trust ed è una optional ok o fra una optional e un'altra optional ok su questa base procediamo diciamo come simulazione nella modalità standard e andiamo a creare una policy di outbound quindi do il nome ovviamente rimane sostanzialmente la possibilità di considerare la policy come law o come deny la prima esemplificazione e mi dice ok parliamoci chiaro che cosa vuoi trattare traffico web sì traffico web io te lo propongo se me lo attivi sulle porte standard http e https nel caso questo traffico sia delineato su altre porte ti do l'occasione di modificarlo tramite l'editing però sempre riferito al fatto che si tratti di web traffic seconda facilitazione vuoi gestire ovviamente nel caso dell'https la content inspection sì allora quindi attiva la decryption il deployment del certificato e non cambia rispetto a prima quindi ci sarà poi metodologie di andare a scaricare il tls certificate e deployarlo direttamente nei client esattamente come succedeva prima un'altra novità una novità sostanziale però rispetto alla concetto diciamo alla manipolazione delle policy con i precedenti metodi dà la possibilità però di arricchire questa policy eventualmente contemplata per il traffico web anche per altri servizi quindi questo ad traffic type mi consente al volo di andare ad aggiungere ulteriori servizi che possono possono anche poi al di là di quelli classici che trovo di default anche poi ratificare dei custom service che vado ad aggiungere così ma mi dà quindi la possibilità di aggiungere man mano che mi capita dei servizi specifici a quelli già dichiarati come come web quindi arrivando a riprendere la mia la mia policy quindi come web traffic quindi la possibilità di andare ad aggiungere nella stessa policy anche altre porte altri servizi identificati ok una volta fatto questo vado a definire source e destination laddove rimane sempre sostanzialmente la possibilità di avere riferimenti come gli alias classici quelli di default quelli che poi potrò in questo momento costruire sia come source che come destination ok e qua vado ad accendere i servizi utm racchiusi ovviamente nelle profilazioni che ho identificato in precedenza quindi content filtering con la profilazione geolocation con la profilazione content scanning ovvero l'unico profilo l'ho definito mandatoriamente nella pannello iniziale della mia policy quindi mi resta solo che accenderlo e spegnerlo il profilo del content scanning è univoco per tutti quindi nelle varie policy troverò solo la sua accensione e la sua chiusura perché perseguo il concetto di semplificazione ok la semplificazione dopo l'analisi che cos'è l'antivirus interceda sempre qualcosa di malevolo ha un senso pensare per semplicità a profilare tu l'antivirus sì tu l'antivirus no su questa base di analisi la risposta è no ecco perché lo racchiudiamo per semplificare su una non possibilità di profilare sulle regole ma lo accendo lo spengo a seconda se lo voglio appunto accendere o spegnere quindi questa è l'unica personalizzazione consentita in questo concetto di esemplificazione ok qualora invece andassi a creare una per esempio una first run policy quindi un'altra tipologia di policy come vedete non c'è la parte relativamente tolto quello che ovviamente e c'era la possibilità di vederlo solo ed esclusivamente come application control infatti nelle packet filter che rappresentavano le eccezioni io potevo attivare solo l'application control quindi qua posso andare a attivare solo il profilo che leggerà appunto solo i controlli applicativi proprio perché il traffico web non può essere letto da una regola di eccezione così come la geolocation ok la geolocation è sempre consentita perché alla fine dei conti avrà un resoconto su base indirizzo sorgente indirizzo di destinazione che non è nient'altro che l'interpretazione della tabella degli IP classificati per geolocalizzazione che diventano parte della vigente del file ok quindi questa è la nuova interpretazione delle policy con la possibilità ovviamente di creare gli alias su una programmazione oggetto quindi posso andare a inserire degli alias e aggiungere i membri a quest'alias come tipologie in maniera in maniera classica e me li ritroverò poi come protagonisti delle policy esattamente poi come lo static NAT come sono abituato a fare ok quindi qui questa parte sostanzialmente viene spostata ma non non cambia procediamo con ordine dopo parlerò delle VPN parliamo della parte network quindi la parte network anche in questo caso cambia un pochino prospettiva nel senso ci sono delle limitazioni relativamente a alcune funzionalità di networking che in questo momento non possono essere contemplate come il dynamic routing traffic management e quality of service link aggregation piuttosto che configurazione del firewall in attivo passivo quindi in questo momento ci sarà previsione di farlo come vedete perché dichiarate come upcoming future ma non non c'è la possibilità di implementarle in questo momento però c'è il supporto previsto ok ritornando a noi la parte di networking prevede questa concezione allora vado nel menu network ok sono tornato sono andato via per un attimo eccomi qua menu network ok allora ho delle network da creare quindi degli elementi sostanzialmente che rappresentano delle se vogliamo dei domini di broadcast ok dichiarati come internal external e guest quindi le divisioni le tre macro aree possono essere identificate come zone interne da proteggere in questo momento non mi interessa di specificare se siano trusted se siano optional ma per semplificare le macro includo in zone interne le zone external quindi quelle che mi danno interfacciamento verso la zona untrusted quindi la zona da cui avere protezione e le zone guest chiaramente per identificare quella che può rappresentare sostanzialmente un'area da escludere in termini di accessi locali ma dare un servizio sostanzialmente di accesso ad internet di navigazione ok quindi a livello di configurazione l'aggiunta di una zona internal prevede la classica configurazione in termini di creare l'indirizzo IP definire se questa interfaccia è un dominio di broadcast aperto oppure una VLAN se è una VLAN si su quale tagging lavorerà e poi devo associargli una porta ok come funziona il discorso delle porte delle interfacce da andare ad associare di default io trovo questo specchietto iniziale quindi la condizione di un firewall associato al cloud di default prevede una network in questo caso è un T55 quindi parliamo di 5 interfacce troverò comunque sempre per tutti la condizione che l'interfaccia 0 è un'interfaccia trattata come external ok le altre interfacce di default sono tutte messe in bridge ok in questo caso costituiscono l'intera risorsa a disposizione della network di default internal quindi questa la trovate di default come vedete trovate view associated di interface trovo le quattro interfacce messe in bridge e per poterle liberare associare ad un'altra interfaccia dovrò svincolarle quindi dovrò entrare nella internal network dichiarare per esempio l'ultima interfaccia come no traffic salvare e a questo punto vedrete sarà identificata come non assegnata ok procediamo in questo momento magari ad assegnare una interfaccia external quindi diamogli un nome ISP2 diamo un indirizzo statico ok e gli assegniamo l'interfaccia l'unica interfaccia possibile che abbiamo che è quella che abbiamo liberato sostanzialmente dalla nostra dal nostro networking facciamo il save e come vedete io in questo momento ho due zone external che possa a questo punto è una zona interna che possa a questo punto trattare visto che ho due external posso trattare con la creazione la gestione del multi one come sono abituato a fare oppure posso creare l'Sdvan questo potevo farlo già prima il multi one non trova collocazione nella policy perché come sapete viene applicato quando nelle policy non ho dichiarato l'Sdvan quindi il multi one è una caratteristica generica del firewall non dipende da policy a policy mentre invece le profilazioni SDvan sì quindi nella profilazione SDvan quando andrò a creare un profilo troverò poi nella policy corrispettiva la possibilità di andarlo ad applicare ok e quindi questo sostanzialmente è il meccanismo quindi qua rivedete le interfacce annesse prima dove questa volta l'interfaccia 4 viene associata alla interfaccia ISP2 come da assegnazione ok quindi questo è il principio la rivoluzione sostanzialmente grafica del concetto di gestione delle network avete visto che qua sotto è comparso approfitto per dirlo perché poi tanto sarà un punto importante è comparsa la scritta you have an undeployed saved change un pochettino come succedeva nel WSM ma con una filosofia con un flusso un po' diverso le operazioni che io ho portato quindi i cambiamenti la creazione delle policy piuttosto che la gestione delle network nuove eccetera eccetera hanno creato una variazione di configurazione che io troverò notificata su questo device e troverò riscontrata nel deployment history che mi dirà caro Gianluca tu hai su questo t55 hai una schedulazione hai un undeployed saved change quindi hai un cambiamento di configurazione non deployato che cosa vuoi fare lo vuoi cancellare o lo vuoi schedulare quindi schedulare lo puoi applicare adesso poi puoi creare una schedulazione ok quindi il se vogliamo passatemi il termine il concetto di monitoring più admin qui è trova la controparte nell'arricchimento di un undeployed saved change che io posso decidere di cancellare con un semplice click piuttosto che andare ad applicare in maniera schedulata ok quindi alla domanda che probabilmente vi farete come vengono gestiti i cambiamenti della configurazione questo undeployed saved change si arricchirà di tutte le modifiche che io farò fino a che ovviamente non decido di applicarlo immediatamente oppure programmando una schedulazione ok tornando alla configurazione andiamo a toccare elementi relativamente alle vpn quindi in questo caso parlando di vpn posso andare a creare in questo frangente esclusivamente branch office virtual interface o fra dispositivi sotto lo stesso tenant quindi sotto lo stesso scusate sotto lo stesso subscriber ok da selezionare come watchcard cloud management firebox oppure sempre in maniera automatizzata vpn fra dispositivi firebox gestiti localmente oppure endpoint di terze parti aggiungerei anche a questa catena questa scelta firebox che si trovano in altri tenant che rientrano sostanzialmente nella condizione third party endpoint ok perché possono essere a me sconosciuti l'automatismo quindi il wizard classico lo potete deployare su questa base quindi col watchcard cloud management firebox troverete qui come scelta endpoint a e b tutti i firebox cloud management che sono sotto l'account cloud che state gestendo in questo momento ok e poi ovviamente ci sono altre condizioni di configurazione che possono essere implementate quindi abbiamo la parte di static NAT l'abbiamo vista abbiamo la configurazione del dynamic NAT abbiamo la configurazione delle rotte abbiamo la possibilità di toccare la parte dell'autenticazione quindi dichiarando dei domini di autenticazione che avranno il loro server di autenticazione quindi per esempio se io aggiungo un nuovo dominio di autenticazione ah sì lo devo dichiarare sì adesso ci arrivo lo devo dichiarare da un'altra parte mettete fra parentesi questa cosa quindi torneremo a breve su questa sulla parte dei domini di autenticazione e oppure la configurazione del database del firewall con la dichiarazione di gruppi e utenti locali il firewall contempla anche la possibilità di avere dei template applicabili su più firewall quindi un po' come succedeva sul management server anche in questo caso nella parte configure trovo sotto shared configuration quindi configurazioni condivise se vogliamo la parte di authentication domain che vi dicevo prima su cui torneremo a breve e la parte di firebox template e vpn quindi sotto firebox template voi potete creare il template del vostro firewall ecco la sfiga che avevo ho scelto un nome già già utilizzato quindi andare a creare il template del vostro firewall con tutta la configurazione relativamente al content scanning al network blocking alle eccezioni alla geolocation le policy di firewall per creare il set di regole classiche dichiarare sotto subscriber device i dispositivi a cui applicare questo template quindi all'interno del mio tenant c'è solo un dispositivo ma qualora ce ne fossero 4 o 5 potete scegliere fra i 4 o 5 disponibili creando un altro template potete di nuovo battezzare dei subscriber device quindi chiamiamoli dispositivi iscritti a questo template e a quel punto nella parte di deployment history troverete poi la possibilità di poterlo deployare ok quindi un conto è il deployment statico che io faccio sul singolo device quindi figlio della di qualsiasi variazione di configurazione che io vado a fare ok quindi mi porterà questo link deployment history un altro invece è relativo al template che posso richiamare da qui aggiungendo un template di cui questo firebox farà farà parte ok quindi accessibile da qui piuttosto che configurabile a priori sotto la parte di shared configuration ok authentication domain quindi qui la creazione di un nuovo dominio di autenticazione che verrà poi richiamato nella singola policy quindi chiamiamolo prova prova punto it dove a questo punto mi viene detto ok a che cosa lo vorrai accreditare un active directory di cui metterai l'indirizzo ip oppure un radius per esempio chiamolo active directory e ora ovviamente diciamo il wizard base mi è stato creato quindi posso salvarlo e lo troverò poi disponibile sulla parte di configurazione dei dispositivi sotto il mio sotto la parte di authentication domain ah sì perché ho la configurazione non ancora deployata quindi questo è figlio poi del deployment perché riguarda l'autenticazione quindi ovviamente verrà aggiunto esclusivamente quando deciderò di salvare di scrivere sull'apparato i parametri i parametri generali comunque il flusso sostanzialmente è quello quindi deployment history troverò tutta la storia dove avrò la possibilità poi di fare il revert delle configurazioni sui singoli apparati che creeranno la storia del mio apparato e troverò qui notificate il file di configurazione non ancora deployato sul dispositivo device password mi porterà ad avere la creazione degli utenti di admin per quanto riguarda l'accesso al watch car cloud quindi salvaguardare questo tipo di accesso in maniera statica e questo sostanzialmente è quanto in termini di overview chiaramente tutto io ho fatto una sorta di carrellata filosofica della nuova interpretazione dicendovi le condizioni dandovi una piccola overview di interpretazione dei vari menu per esempio attualmente vi dicevo le branch office vpn solo in questo momento esclusivamente le virtual interface così come le mobile vpn sono in questo momento esclusivamente le itb2 ma come vedete qui a breve verranno implementate anche le vpn ssl come possibile espansione ok ecco sostanzialmente questo è quanto quindi ripeto il concetto non vi invito a valutarlo come cambiamento epocale per il management ok perché vi porterebbe più lavoro che altro dovendo resettare tutti i vostri apparati e ricostruire tutte le vostre configurazioni ex novo non è questa la visione del firebox cloud center management la visione è una nuova opportunità per nuovi clienti dopo un'analisi fatta col cliente una aver trovato che la semplificazione la facilità la modellizzazione è il focus l'obiettivo di quel cliente unito a un single pane of glass e quindi il watch car cloud vi dà la possibilità di sfruttare in maniera semplificata questo grazie a questo strumento l'ambiente del cliente ok quindi se il cliente tira fuori eh ma io devo fare devo ritoccare tutti gli leader delle proxy policy andando a discriminare tutti i path url consentiti non è questo il modello da adottare perché qui questa cosa come vedete non verrà mai implementata ok perché non fa parte del concetto di semplificazione nessuno sta dicendo che non serve più adotto un altro modello se questa è la necessità ok quindi per come la vedo io ma credo che sia abbastanza chiaro ed evidente il il watch il management via watch car cloud è un'opportunità che vi darà la possibilità di catturare clienti che hanno una necessità di avere una sorta di organizzazione del management dei propri firewall il più semplice possibile non vuol dire il meno sicuro possibile perché abbiamo visto che i motori UTM sono assolutamente validi come prima le funzionalità che mancano importanti verranno aggiunte mi viene in mente l'access portal mi viene in mente lo spam blocker mi viene in mente la possibilità di caricare certificati eccetera eccetera quindi non rinuncio alla sicurezza ma la semplifico in maniera molto molto importante per accreditare nuova clientela che dopo una fase di analisi ha questa necessità ok io sostanzialmente ho concluso andiamo a vedere se ci sono delle domande sì ce ne sono diverse procedo con allora allora la prima domanda vi chiedo scusa mi avete notificato una piccola interruzione ok è avvenuta ma credo che sia ritornata in piedi subito la prima domanda è inerente a allora la possibilità di avere una di arrivare sì ad una situazione mista quindi un'integrazione degli strumenti se ne discute ma in questo momento non è non è in roadmap proprio perché per una questione di una della visione della piattaforma cloud è uno strumento non obbligatorio da adottare sempre ma è uno strumento per la nuova clientela quindi porterà voi eventualmente nel caso in cui lo riteniate utile ad acquisire due filosofie di configurazione ma ripeto saranno casistiche casistiche dovute da due fasi di analisi diverse è importantissimo sempre fare l'analisi delle necessità del cliente conoscere lo strumento e avere l'opportunità di poterlo gestire non escludo a priori che ci sarà questa integrazione anche perché non è citata come vedete nelle unsupported feature ok quindi non vedete la possibilità non c'è scritto qua che non ci sarà mai il management precluso però in questo momento non è nella roadmap non è nelle priorità ma è in una semplice fase di discussione posso avere più template allo stesso device certo assolutamente qui è identificato come quindi se vado a gestire la parte dei template vedete proprio dal disegnino sostanzialmente passatemi il termine che in questo caso il device B acquisisce due template template A e template B con modifiche diverse che verranno c'è poi una pagina di documentazione che dettaglia la sovrascrittura e l'overlapping quindi quello che viene aggiunto e quello che viene sovrascritto ma ve la lascio poi alla documentazione da leggere per non confondere troppo le idee comunque è assolutamente previsto come vedete che due template possono essere assegnati allo stesso device riandiamo avanti con le nostre domande allora la configurazione centralizzata preserva la connettività del firebox verso il cloud watchcard onde evitare di perdere la gestibilità del firebox è sostanzialmente sì quindi deve esserci ovviamente il router di turno a questo punto deve poter permettere al cloud di essere agganciato di essere visibile se no si torna in una condizione offline che però consente la gestione locale del file allora la configurazione gestione via cloud è applicabile ai firebox mssp assolutamente sì anzi oserei dire che proprio passatevi in termine grezzo la morte sua proprio che è in visione dei clienti gestiti e anche perché come caratteristica in termini commerciali serve la basic security in questo momento la basic security e la total security che comunque la diciamo la gestione in mssp può tranquillamente garantire quindi ripeto assolutamente sì allora ciao Gianluca una volta che un firewall è configurato come cloud manager possa accedervi di nuovo con il modo tradizionale web UI WSM o soltanto allora finché rimane tracciato come cloud quindi finché rimane in verde come farbox cloud sono precluse l'accesso WSM l'accesso web UI è consentito ma vi darà solo modo di poter ripristinare l'accesso cloud non sarà full management via web UI quindi una via via web UI solo di monitoring e di ripristino dell'accesso cloud il WSM invece è totalmente inibito questo fin quando l'apparato è agganciato al cloud come gestito rispondo anche a Massimo l'inibizione della gestione locale vale anche per il WSM sì WSM e web UI il WUI parzialmente ma diciamo che non potete modificare nulla se non solo vedere il monitoring dell'apparato ma il WSM è totalmente precluso ok acquisisco la tua richiesta Alessandro che ci propone il fatto che sarebbe utile poter schedulare il backup delle configurazioni lo farò presente ok andiamo a vedere se ci sono altre domande scusate le piccole pause ma le sto leggendo i backup della configurazione ci chiede Giovanni se è possibile farli rappresentano lo storico della configurazione quindi te le ritroverai tutte quante nella parte relativamente alla deployment history quindi te le troverai tutte quante non c'è modo di esportarle in questo momento proprio perché non c'è un concetto di XML puro perché l'ho segnalato all'inizio non c'è importazione diciamo c'è in una direzione ma non la puoi editare esportandola da qui in buona sostanza ma ti ritroverai lo storico quindi l'eventuale revert lo potrai fare solo attraverso questa piattaforma senza metodologie di esportazione del file di configurazione e le diverse la storia delle tue configurazioni la troverai nel deployment history e anche stefan ci chiedeva si può associare un template a diversi device subscriber la risposta è sì come abbiamo visto prima non vedo altre domande quindi io vi ringrazio per la partecipazione ripeto il video sarà il webinar sarà uploadato nella piattaforma nel nostro canale youtube watchcare italia a tempo tecnico di convertirlo e di uploadarlo e niente qualsiasi domanda poi vi venga in mente in seconda battuta sono a vostra completa disposizione vi ricordo che ovviamente la tutta la documentazione specifica viene come sempre riportata nel nostro help online nella sezione watch car cloud firebox management in cloud e qua trovate tutto quello che c'è da sapere per i vostri test per le vostre prove eccetera 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 quindi consigli best practice e quant'altro trovate tutto ovviamente documentato io vi ringrazio ancora e vi auguro buon weekend buona giornata a tutti